Buoni amici, oggi, in Best Top, vi portiamo una lista delle migliori tavolette grafiche sul mercato. Digitalizza i tuoi progetti e disegni con colori accurati, tratti precisi e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi mostreremo dal più economico al più professionale e con la migliore tecnologia. Nella descrizione e nel primo commento, hai i link per l'acquisto dove puoi controllare il prezzo, le caratteristiche e le offerte disponibili. Sei pronto? Ecco 420. Partiamo forte con l'opzione più economica della lista, che di solito è intorno ai 20 euro. Questo dispositivo è molto versatile, grazie al suo stilo che permette di disegnare, dipingere e persino giocare, sostituendo il mouse tradizionale. Ha un design compatto, con un'area attiva di 10,1 cm x 5,6 cm, che lo rende facile da portare ovunque. Ha una risoluzione di 4000 linee per pollice. Il suo stilo ha un buon livello di pressione, che lo rende ideale per firmare documenti, prendere appunti e molto altro, sia per gli utenti destri che per quelli mancini. Un modello che non richiede l'installazione di driver. Inoltre, è compatibile con Adobe Photoshop, SciPainting Tool, Illustrator, SketchPaint, Manga Studio e molto altro. È possibile scrivere a mano, modificare o annotare con la matita. Ha anche un pulsante personalizzabile sul lato, che può sostituire la funzione del tasto destro del mouse. Tutto sommato, una tavoletta grafica molto completa, che ha la valutazione positiva di più di 6500 utenti, e quindi, possiamo solo raccomandare il suo acquisto nel link della descrizione. Nella top 2, Gaomon S620. Continuiamo con un modello economico di un marchio di grande reputazione e qualità come è Gaomon. Fai dei tratti precisi con questa penna senza batteria, con la quale puoi disegnare, dipingere e giocare senza interruzioni. Ha quattro tasti personalizzabili con funzioni che faciliteranno il vostro lavoro, due dei quali con funzione, Express, programmabile. Disegna tratti di linea più naturali e creativi, grazie alla sua penna altamente sensibile alla pressione. Ha una velocità di trasferimento di 266 punti al secondo e una risoluzione di 5080 linee per pollice. Funziona su una superficie di 6,5 pollici per 4 pollici. Leggero e facile da trasportare. Compatibile con i software di disegno più popolari, come Adobe Photoshop, Illustrator e Clip Studio. Inoltre, con programmi come Lightroom, Sketchbook Pro, Manga Studio, Corel Painter, Fire Alpaca, Open Canva, tra gli altri. Si distingue per il suo design ergonomico antiscivolo, con quattro bande di gomma progettate per garantire una stabilità ottimale sul tablet. Ha una porta micro USB, garantendo la connessione al vostro desktop, laptop o PC. Con una valutazione di 4,6 stelle su 5 e il prestigio del suo marchio, questa tavoletta grafica è una delle migliori per il suo rapporto qualità-prezzo. Ricorda che hai tutti i prezzi, le offerte e le opinioni nei link della descrizione e nel primo commento del video. Nella top 3, Wacom One. Entriamo nella fascia media con una delle migliori marche sul mercato. Wacom ci offre una qualità estrema nei suoi prodotti. Questo modello crea risultati incredibili, grazie alla sua penna sensibile alla pressione, che si adatta perfettamente alla forza e al movimento della tua mano. Questo dispositivo compatibile con Mac, Chromebook o PC, che si può collegare tramite cavo USB, è facile da installare e utilizzare. La sua penna senza batteria è leggera e confortevole, con una tecnologia elettromagnetica che ti dà un eccellente controllo e precisione. È dotato di un ampio schermo da 13,3 pollici con una risoluzione di 1920x1080 pixel. Inoltre, puoi tenerlo inclinato a 19 gradi, grazie alle sue gambe pieghevoli. Connettiti al tuo Chromebook e integra tutte le sue app con la potenza dello stilo. Prendi appunti in Google Keep, disegna diagrammi in Google Canva e collabora con Google Jamboard, senza scaricare software o driver complessi. Porta questo modello a casa con te e scopri un nuovo modo di goderti il design, il disegno e la pittura ovunque tu vada. Il suo design, la qualità, la precisione e il prezzo lo rendono la migliore opzione nella sua gamma. Nella top 4, XP Pen Deco. Se la comodità e la novità sono fondamentali per te, questo modello, per meno di 70 euro, può essere un ottimo acquisto. Questa tavoletta grafica ad alte prestazioni ha uno schermo da 10 pollici per 6,25 pollici, quindi hai più spazio per creare. La penna supporta fino a 60 gradi di inclinazione, offrendo linee e tratti più morbidi e naturali. Ha angoli di rotazione di 0, 90, 180 e 270 gradi. Inoltre, le estremità dell'area di disegno sono illuminate, con livelli di luminosità regolabili, così puoi lavorare e creare nel tuo ambiente ideale. Dispone di 8 tasti di scelta rapida personalizzabili e facilmente regolabili. I tasti di scelta rapida possono essere programmati per molti software diversi. Questo modello è compatibile con Windows 10, 8 e 7, Mac 10, Android 6 e superiori. Inoltre, puoi lavorare con Photoshop, SAI, Pinter, Illustrator, Clip Studio e le tue applicazioni di design preferite. Con una valutazione di 4,5 stelle su 5, è la migliore opzione nella sua gamma, e ha l'approvazione di più di 3000 utenti che l'hanno già testato, quindi ne consigliamo l'acquisto. Nella top 5, Wacom in tuo sese. Se sei un fanatico dello stile naturale e del disegno organico, questa opzione best seller di Wacom è un top seller. Godetevi una penna leggera e ultra precisa che si adatta al vostro stile. Grazie al software scaricabile, ai tutorial online e all'impostazione facile, potrai creare disegni con facilità. La penna sensibile alla pressione a 4096 livelli offre prestazioni precise e avanzate. Ha un design ergonomico, una sensibilità alla pressione di 4K e una bassa altezza di lettura. La sua calibrazione offre un alto livello di precisione e controllo. Personalizza lo stilo con i suoi due pulsanti e le sue tre punte per adattarlo a te. È caratterizzato da un design ultra sottile e leggero, così puoi portarlo con te ovunque tu vada. Ha un'area di disegno attivo, che occupa l'intera superficie, e un vassoio integrato per la penna per una maggiore libertà creativa. Un modello compatibile con Android 6 o successivo. È ideale per gli artisti di fumetti o manga, grazie ai suoi tratti naturali, colorazione veloce, toni illimitati e modelli per figure 3D. È una squadra che ha 4,6 stelle su 5 da più di 4000 utenti che confermano di essere soddisfatti, quindi ne consigliamo l'acquisto. Nella top 6, la Gaomon Pro 10. Per coloro che amano la tecnologia, combinando qualità, spazio e precisione, questo modello per meno di 90 euro è una scelta eccellente. È un'area di lavoro di 10 pollici per 6,25 pollici, facile da trasportare ovunque, e offre un'esperienza di disegno più accurata e naturale. Ha uno stilo passivo di livello 8192, con un'inclinazione di più o meno 60 gradi. La sua penna non ha bisogno di ricarica e offre finiture eccezionali. Dispone di 12 tasti di scelta rapida sul lato del tablet, che puoi personalizzare a tuo piacimento, per facilitare il tuo lavoro. È ideale per l'insegnamento a distanza, la collaborazione in classi virtuali, i team virtuali e le videoconferenze. Compatibile con Windows 7, 8, Mac 10, Android 6 o superiore. Funziona anche con la maggior parte dei programmi di disegno, come Adobe Photoshop, Illustrator, Clip Studio, Sketchbook Pro, Manga Studio, Sai 2 o Krita. In breve, un dispositivo molto completo che ha più di 4000 valutazioni e che vi permetterà di portare il meglio della tecnologia del design con voi ovunque andiate. E infine, nella top 7, XP, Pen Artist, 12 HD. Se sei un fanatico della qualità dell'immagine, del colore e della velocità, questa opzione ad alte prestazioni è un best seller. Con un display HD da 1920x1080 pixel e una gamma di colori del 72%, è un dispositivo che presenta immagini vivide, colori vibranti e dettagli estremi, rendendolo una scelta eccezionale. È dotato di uno schermo protettivo in vetro temperato da 1,1 mm con un rivestimento antiriflesso che riduce i riflessi per proteggere i tuoi occhi. Presenta un design esagonale unico e una presa flessibile e antiscivolo. La sua punta di matita trasparente parziale, con 8192 livelli di sensibilità alla pressione e la gomma all'estremità, offre una sensazione tecnica e di alta efficienza. Ha sei tasti di scelta rapida che possono essere personalizzati a seconda delle esigenze, e il touchpad può essere programmato per ingrandire e ridurre, scorrere verso l'alto e verso il basso, e altro ancora. Un computer compatibile con Windows 10, 8 e 7, Mac 10 e superiori. Inoltre, è possibile lavorare con Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, tra gli altri. Da Best Top, vi consigliamo questa attrezzatura ad alte prestazioni, con la quale potrete godere di un'esperienza unica nei vostri disegni, dal luogo in cui preferite lavorare. Hai domande su qualche modello? Scrivete nei commenti e vi risponderemo il prima possibile. Grazie per essere rimasto fino alla fine. Se ti è piaciuto il video, sostienici con un like, e ricordati di iscriverti per vedere altri video dei migliori top sul mercato. Alla prossima!